Clamp Rod Rest, un accessorio rivoluzionario tra le novità tra buco per il 2021. Si tratta di un supporto triplo che ci permette di avere comodamente a portata di mano le nostre canne di riserva durante le battute di pesca. Lo possiamo inserire su qualsiasi gamba del nostro paniere con un semplicissimo gesto. Inoltre il Clamp Rod Rest viene distribuito con due riduttori per poterlo fissare in maniera corretta sia sulle più piccole gambe da 25 che sulle più grandi da 36 semplicemente togliendo il riduttore. Ma la vera chicca di questo poggiacanne è che i tubi sono tutti indipendenti uno dagli altri quindi li possiamo orientare e alzare e abbassare a piacimento in base alla situazione del terreno sul quale ci troviamo a pescare. Qualora avessimo necessità di avere un maggior spazio tra le due canne possiamo ad esempio togliere il tubo centrale avere uno spazio maggiore oppure posizionare un tubo lateralmente, un tubo avanti quindi veramente molto comodo e soprattutto molto molto versatile. I tubi sono stati disegnati e progettati con una scanalatura che facilita l'ingresso all'interno della canna stessa oltre che ad uno sgancio rapido che ci agevola in tutte le altre operazioni di pesca. Questo accessorio ci viene in aiuto in tantissime situazioni legate al terreno qualora ci trovassimo ad affrontare un terreno particolarmente scosceso, in pendenza o addirittura pescando con il paniere in acqua quindi posizionare altri poggiacanne risulterebbe difficoltoso. In questo caso essendo staccato la terra risolviamo gran parte dei nostri problemi. Inoltre l'ingombro è veramente ridotto ed è quindi utilissimo per pescate veloci o comunque pescate dove non sarà necessario aprire un numero superiore a tre canne più la quarta suffiter arma.